Buonasera amici di Nova News 24, da Antonino Spinalbese e Oriana, scoppia la lite, tutto colpa di Giaele, ecco cosa è successo, ecco cosa lui dice di te, queste le parole famose, la coppia formata da Oriana, Marzoni e Antonino Spinalbese che qualche giorno fa sono stati sorpresi sotto le coperte con strani versi, se vi siete persi il video di Nova News 24 andatelo a rivedere, potrebbe però essere già arrivata al capolinea dopo le notti, sotto le coperte come detto ieri sera c'è stata la primavera litigata tra i due piccioncini, la spagnola ha sentito Spinalbese che stava parlando con Giaele e si è avvicinata anche perché ha sentito il suo nome da quel momento, tutto è degenerato, la Dedona ha sgangiato una bomba che ha fatto infuriare Oriana, sì Oriana, Antonino mi ha detto ieri sera lei mi ha definito il suo uomo, io alle parole il mio uomo mi sono impaurito e mi sono spaventato, però anche tu Anto, tra tutte le persone a cui potevi fare una rivelazione del genere, dopo che sai già la situazione, proprio a me dovevi farla, vieni proprio a parlare con me, ma io cosa ti devo dire, queste le parole ovviamente di Giaele nei confronti di Antonino, tu mi hai detto sta cosa e io ti ho detto, non so che dirti, quando saremo fuori di qui ne parleremo, ne discuteremo poi, qui non mi pare il caso, visto la situazione che si è creata, non mi pareva il caso di commentare. E quindi a questo punto Oriana sbotta contro Antonino, ripeti cosa hai detto a lei, ma in che momento ti sei impaurito, io non ho detto che sei il mio fidanzato, ti sei spaventato ma mi cerchi sempre, non ti vedo come un marito, sappilo, Oriana continua a insistere su Antonino e lì continua a dire chiaramente, se dici che hai paura poi perché vieni con me sotto le coperte, ma tu come ti permetti di andare da altri a dire una cosa del genere, poi vai da una ragazza a cui piacevi e che prima di me facevi il cretino con lei, tu hai paura di me e delle parole che ho usato, però poi vieni sempre a dormire con me, non ha senso, se hai paura e vuoi andare piano, allora non ti metti nel mio letto, non venire nel letto con me, figlio mio, se non era per Giaele non avrevi mai scoperto che tu mi avresti parlato. Dietro, queste le parole ovviamente di Oriana nei confronti di Antonino, la lite è furibonda, amici di Nuova News 24, tutto sarà sicuramente raccontato domani sera in diretta su Canale 5 da Alfonso Signorini nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, intanto amici di Nuova News 24, diteci cosa ne pensate di questa lite, se l'avete vista in diretta diteci il vostro parere, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nuova News 24. Ciao!